Si svolge dal 7 agosto al 12 settembre 2021 al Forte Lorenese di Forte di Marmi la mostra Carlo Nangeroni Abstraction, musica da vedere. Promossa dal comune di Forte di Marmi l'esposizione presenta oltre 80 opere di Carlo Nangeroni, pittore e scenografo statunitense e di origine italiana datate tra il 1949 e il 1999. A un importante nucleo di dipinti per lo più acrilici ma anche oli su tela e acquerelli si aggiungono tre sculture realizzate appositamente per l'esposizione su licenza dell'archivio e progetto dell'artista collocate in Piazza Garibaldi. Il percorso espositivo parte da uno splendido autoritratto del 1949 ancora declinato nel linguaggio figurativo per arrivare all'astrazione della fine degli anni 90 documentando il passaggio stilistico e poetico decisivo nell'opera dell'autore. Allievo di Mauro Reggiani uno dei padri dell'astrazione in Italia Nangeroni ha sviluppato un proprio stile pittorico in cui il linguaggio musicale con i suoi ritmi, le sue pause e le sue ripetizioni ha rappresentato il modello di riferimento. La forma del cerchio è diventata essenziale in lui nel momento in cui alla fine degli anni 50 ha cominciato ad abbandonare la figurazione e successivamente l'informale e il colore per una forma di astrazione costruita sulle cadenze e sulla reiterazione. Nelle mutazioni, nelle interferenze così come negli elementi in movimento di cui si ambirano alcuni esempi in mostra quella che si vede rappresentata è la sua pittura in una visione minimale ma aperta al cuore alla variazione alla creazione come sviluppo di temi simili ai temi musicali. L'elemento circolare è stato adoperato come un modulo ripetuto in forme e sequenze sempre diverse come note di un pentagramma visuale. Le ragioni del suo approccio particolare nel sistema variegato dell'arte di quegli anni consistono nella sua capacità di partecipare al mondo artistico senza alcuna forma di coinvolgimento ideologico o di gruppo. Mio marito era nato a New York da genitori lombardi che erano emigrati negli Stati Uniti. I genitori volevano tornare a vivere in Italia e avevano mandato i figli mio marito e suo fratello in Italia e loro sono andati a scuola ma sono rimasti bloccati in Italia fino alla guerra. Durante la guerra sono dovuti fuggire in Svizzera perché erano cittadini americani ed erano perseguitati dai tedeschi e sono dovuti fuggire in Svizzera. Dopo dalla Svizzera sia mio marito che suo fratello sono tornati negli Stati Uniti. Mio marito aveva studiato arte a Milano poi per cinque anni ha fatto lo scenografo per l'NBC però aveva sempre questo desiderio di tornare in Italia e di dedicarsi soltanto alla pittura. Lui è partito dal figurativo però poi stando in America ha avuto il periodo dell'action painting e lui si è dedicato un po' a quel tipo di pittura però non era quello che lui desiderava quindi tornato in Italia ha pensato di trovare una sua strada astratta. Fondamentalmente vedrete una mossa che ha un suo sviluppo di tipo cronologico dalle opere anni 40, 50 e 60 salendo si arriva fino agli anni 90 una sezione particolare dedicata agli acquarelli che sono una delle caratteristiche più importanti del suo lavoro. La mossa si chiama Abstraction, musica da vedere. Per quale motivo? Beh, il motivo è presto detto in alcuni scritti Carlo Nangeroni che è uno degli artisti astratti italiani più importanti ha scritto esplicitamente che il suo passaggio all'astrazione quindi a degli elementi astratti che sono in genere delle sfere dei cerchi e che sono delle figure perfette sappiamo dalla geometria platonica l'idea è quella di riuscire a fare una sorta di linguaggio combinatorio di questi elementi con il colore con alcune linee di movimento eccetera che fosse simile come risultato a quello della musica. La musica guardate bene un grande storico dell'arte diceva che tutte le arti tendono alla musica perché la musica ha in sé una sua perfezione cioè il fatto che con pochi elementi si possano comporre delle canzoni di Sanremo o comporre delle sinfonie di Beethoven la musica ha un suo linguaggio molto importante e le arti visive hanno sempre guardato la musica cercando di come dire avvicinarsi a questa capacità di rendere tanto con pochi elementi combinati insieme cioè di creare un vero e proprio linguaggio visivo ecco Carlo Langeroni ha dedicato abbiamo anche riprodotto poi nei pannelli alcune sue frasi proprio per illustrare questo aspetto perché è interessante capire come l'arte astratta avvenga in personaggi che sanno perfettamente dipingere basta vedere la qualità di lavori di questo tipo anche un lavoro del periodo americano come Blue Hills qui sulla mia destra perché come dire l'apprendistato di un artista di questo tipo è un apprendistato assolutamente figurativo ma questo dico anche un grande artista astratto americano come Franz Klein ha un suo periodo figurativo cioè la figurazione è un po' la gestazione di tutta la pittura poi ognuno prende le sue strade certamente ma mi serviva anche come dire quest'idea di cercare di connettere di far capire al grande pubblico e questo è uno spazio magnifico perché è uno spazio importante bellissimo io devo dire non lo faccio per piageria ma come è stato ristrutturato questo spazio faccio i miei complimenti all'amministrazione perché è uno spazio perfetto per esporre e quindi come dire in uno spazio di questo tipo che è uno spazio dove c'è la storia ma c'è anche un aspetto minimale che è quello che serve poi alle opere d'arte per vivere ecco mi sembrava che proporre una mostra con una latitudine cronologica così ampia come 50 anni fosse uno spazio giusto la nostra idea nella collaborazione con l'archivio Carlo Nangeroni e qui c'è la signora Mary la moglie di Carlo Nangeroni la vedova ovviamente e per noi è importante questa collaborazione perché i grandi artisti hanno bisogno anche di molto come dire di un supporto critico ma anche di una grande ricerca di visibilità e di contatto con il pubblico abbiamo realizzato anche tre sculture da dei modellini di Nangeroni che vedete poi esposti qui sono delle sculture realizzate per l'occasione e questo era anche un modo per far capire come anche la ricerca plastica in un artista come Nangeroni è importante cioè come dire la ricerca pittorica in Nangeroni è andata avanti con la sua ricerca del colore ma anche con la sua ricerca fondamentale di studiare gli elementi essenziali della comunicazione visiva e in questo è stato un maestro l'arte astratta in Italia è un'arte importante un'arte che va continuamente rivalutata e sono molto soddisfatto di essere riuscito a realizzare con l'archivio e con il sostegno di alcuni collezionisti importanti locali o comunque della zona una mostra che ha un valore assolutamente museale e di questo ringrazio l'amministrazione per questa occasione che ci ha dato la nostra idea è di continuare e di presentare anche nella prossima mostra nel prossimo step anche gli ultimi anni di Nangeroni e quindi come dire tutti gli anni fondamentalmente gli anni 2000 in cui si introducono altri elementi quindi la mostra è uno sviluppo cronologico ci sono dei pannelli esplicativi abbiamo cercato di essere più chiari possibile e ci aspettiamo un grande pubblico per una grande mostra il lavoro di mio papà l'ho sempre conosciuto da quando sono nato non sono un esperto d'arte mi piace perché è il lavoro che conosco di mio papà essenzialmente lui era un pittore che però ha sperimentato anche con altri con altri mezzi ha sperimentato con la scultura ha fatto anche dei gioielli ha fatto molte cose come esperimento però essenzialmente il suo lavoro era la pittura molto rigorosa mio papà diceva che l'arte astratta in realtà tanti cercano di capirla di interpretarla però il vero punto è se ti piace o non ti piace a volte a volte è inutile stare a cercare di interpretare troppo trovare dei significati che poi magari non ci sono ognuno trova il proprio significato e decide se l'opera è un'opera che gli può piacere da vedere tutti i giorni nella propria casa questo era il pensiero di mio papà è un'opera il pensiero è un'opera è un'opera è un'opera è un'opera è un'opera